La questione Bacayuco, si aspetta qualche intervento della Procura Federale? Ma voi mi conoscete bene, l'argomento giustizia sportiva, fatemi tutte le domande che volete, sapete benissimo che non posso dire nulla, perché qualsiasi parola dico adesso è strumentalizzata. Si figura di se io vado a dire cosa deve fare la Procura Federale, eccetera. Sinceramente di questi episodi ne facciamo volentieri a meno, ma non è un discorso riguardo, in particolare quel giocatore, quello stadio, quella tifoseria in assoluto, perché penso che oramai è chiaro quello che si può fare e quello che non si può fare. Poi non so come interverranno, un tema che certo io non sollecito, non spingo che avvenga.